Due cantieri in pochi metri, due luoghi nel cuore del centro storico di Pesaro che si riqualificano dopo decenni di abbandono. Con Palazzo Ricci il Lecomune è pronto a muovere il primo passo verso il progetto di cittadella della musica. Col palazzo dell'ex intendenza di finanza si recupererà invece un altro edificio storico rendendolo futuro contenitore di tanti uffici convogliati in un'unica sede. Il primo cantiere è già partito, quello dell'ex intendenza partirà in settimana. A Palazzo Ricci dove fino a dieci anni fa c'era una sede Asur si lavora per l'unione a Palazzo Livieri del Conservatorio mettendo le basi a quel campus della musica pensato sull'asse di via Sabatini. Un investimento di oltre due milioni che sarà seguito dal cantiere per la scala di sicurezza dell'auditorium Pedrotti per un altro mezzo milione di euro. Operazione che consentirà al conservatorio di recuperare nuovi spazi fra aule, biblioteca e appartamenti per studenti. Prima nuova grande opera del 2023 da concludere prima del 2024 anno di capitale della cultura al quale seguirà in settimana la consegna del secondo distante una manciata di metri all'ex intendenza di finanza. Un altro stabile dismesso da decenni dopo i trasferimenti della guardia di finanza che viene ora recuperato dall'agenzia del demagno con un investimento da 10 milioni di euro in cui convogliare in unica sede tanti uffici provinciali del ministero economia e finanza sparsi per la città dalla regione re dello stato all'ispettorato del lavoro. Due cantieri che però preoccupano associazioni di categorie commercianti soprattutto per l'ex intendenza che cantierizzerà parte di via branca in prossimità della piazza. Ora il comune cerca un punto di incontro col demagno per mitigare l'impatto dei lavori sulla fruizione delle vie del centro.